Lunedì 26 ottobre, prima seduta della nuova giunta nominata dal presidente della regione Eugenio Giani. I lavori si sono svolti nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, la sede fiorentina della presidenza regionale, nel rispetto delle norme di sicurezza anti-covid, quindi con distanze interpersonali garantite e mascherine sul volto per tutti, presidente, assessori e consiglieri delegati. I lavori si sono svolti in due parti. L'una, diciamo più propriamente politica, in cui io relazionerò sullo stato dell'emergenza covid e quindi sulle prospettive dei provvedimenti che in sintonia con il decreto del Presidente in Consiglio, il cosiddetto DPCM Conte, noi dovremmo assumere a livello regionale. Avremo anche una serie di atti deliberativi minuti, proprio con riferimento a quello che era un'attività pregressa che deve essere portata avanti e che discuteremo e approveremo. E poi una seconda parte che sarà quella più propriamente organizzativa, anche di definizione, fra i vari componenti della Giunta, delle modalità di lavoro e del modo con cui portare avanti ciascuno le proprie deleghe.